Domenica Live, Craig Warwick contro Franco Terlizzi, pesanti minacce sui social, le nuove accuse di Craig Warwick contro Franco Terlizzi a Domenica Live, Craig Warwick, ospite di Domenica Live è intervenuto, ancora una volta, per confermare la presunta omofobia di Franco Terlizzi. Il sensitivo, adesso, ha paura a causa delle minacce ricevute dai sostenitori del personal trainer sui social. Craig, ho passato una settimana terribile. Ho visto un altro lato di Franco, non solo quando è stato aggressivo con Francesca. Ho avuto molti messaggi sui social, mi hanno trattato male. Ho avuto minacce di tutti i tipi. Mi hanno mandato una serie di messaggi, se ti vedo per strada mi danno un pugno. Eva Enger, però, non sembra essere dello stesso parere, convinta che l'ex compagno di avventura abbia, forse, equivocato le frasi di Franco. Eva, la prima settimana, noi non abbiamo mai sentito da parte di Franco un disprezzamento su Craig, in quanto omosessuale. Ha saputo che era, ci è scivolato sopra. Sono diventati grandi amici. E, durata due settimane. Non capisco come sia nata questa situazione. Un omofobo non va nemmeno vicino ad un. E, diventato amico tuo, anche Cecilia Capriotti, di ritorno dall'Honduras, sostiene la tesi dell'ex moglie di Riccardo Schicchi. Cecilia, devo confermare la versione di Eva. Gli ha dato delle schifose per altre cose personali, per la coperta che non gli hai dato, il figlio Michael cerca, in vano, di chiudere il capitolo. Michael, mi dispiace che vieni attaccato. E, in base al tuo comportamento,